I problemi sembrano più piccoli, però molto bello, ha ispirato un personaggio in scialà della Fallacci, giusto? Per cui, ecco, il coefficiente di copolarità c'è, è una persona straordinaria, però, Hobbie tantissimi, è stato due volte l'ho tornato a casa, se posso dire così, è stato due volte l'ho tornato a casa, Hobbie sposato con una figlia, Aldo, so tantissimo, però ve lo faccio raccontare da lui, due volte, poi si è presentato con una maglietta dell'Inter, con l'appassione del circo sportivo, bene, gli altri sono diversamente interisti, Paolo Nesco, un bel applauso grazie a tutti! Grazie, non sei che questo, che questa, sono sorpreso dalla, felicemente sorpreso, voglio dire, da quello che ho visto oggi, cioè da questa voglia delle industrie, delle scuole, delle università, di fargli fare qualcosa di pratico, che è un pochettino quello che manca quando si studia, si finisce a imparare quello che c'è sui libri, ma poi riportarlo nella vita di tutti i giorni, è un pochettino più difficile, quindi sono veramente, positivamente sorpreso da questa iniziativa e spero, è la prima volta che la fate? No, interprovinciale, sì. Interprovinciale, ma insomma, spero, credo, visti anche i risultati, che continuate in futuro. Ok, basta con le foto! Grazie. Grazie, arrivederci, buongiorno! No, lei non vuole compiore, lei è libera, me ne faccio una così!